Da lunedì, 13 settembre, si alza il sipario sulla stagione dell'informazione di GRP. TG Monitor andrà in onda alle 13.30 e alle 19.00. Segna i nuovi orari e sintonizzati sul canale 13 per seguire il notiziario del Piemonte. Sarai sempre informato sull'attualità politica, sulla cronaca, sugli eventi culturali e su quanto accade nel territorio piemontese. GRP, l'informazione per tutti e di tutti. GRP, l'informazione per tutti e di tutti.